Evoluzione di popolari giochi cinesi, Tishu è un gioco di presa di carte e a squadre. Da 3 a 6 giocatori, dai 10 anni in su e dalla durata di circa 60 minuti. Si tratta di uno dei più famosi ed apprezzati climbing car game di tutto il mondo, capace di intrattenere e divertire persone di ogni età. L'obiettivo è quello di esaurire le proprie carte attraverso un certo numero di mani. Inoltre le squadre dovranno lavorare insieme per ottenere punti e raggiungere un totale prefissato che li porterà alla vittoria. Rispetto ai giochi di carte classici però, Tishu introduce 4 carte speciali che vanno a sostituire i jolly. Esalta il concetto di gioco a squadre, strategia e di psicologia e soltanto la coordinazione tra i membri della stessa squadra può garantire la vittoria. Tishu è un immancabile pezzo nella collezione degli amanti di giochi di carte. Tishu è un'immancabile. Grazie.